Buonasera a Marco Marchese. Buonasera Giancarlo. Ciao. Da più di un anno ti sei lanciato nell'avventura editoriale con le officine editoriali d'Acleto e sempre vicino anch'io a questo mondo dell'edizione, dei libri, della scrittura, ti chiedo com'è che a un certo punto dalla pratica di dibattiti, dalla pratica di libri tv, questa scrittura è giunta anche all'edizione e ti passo la parola con piacere. Grazie Giancarlo. Sì è un anno, poco più di un anno che mi sono lanciato in questa attività editoriale con le officine editoriali d'Acleto nel senso che ho aperto la casa editrice e a Della Verità è un sogno nel cassetto ma è un sogno antico che risale forse che risale a circa 30 anni fa, perché 30 anni fa ci provai con l'apertura di una casa editrice però all'epoca ero troppo giovane, l'esperienza era troppo poca e quindi pur avendo avuto l'intuizione giusta 30 anni fa purtroppo la mancanza di esperienza da un lato e la mancanza di risorse dall'altro mi hanno impedito di realizzarla 30 anni fa. Beh 30 anni dopo diciamo che ci siamo riusciti. L'occasione è stata un po' la pubblicazione del libro di Riccardo e quindi sono un po' due sogni nel cassetto che si sono aperti contemporaneamente perché lui ha scritto un libro e allora a quel punto abbiamo incominciato la ricerca di una casa editrice per vedere se questo libro era meritevole di essere pubblicato e ad un certo punto si è aperto quasi da solo questo cassetto e gli direvo guarda tu avevi quest'idea 30 anni fa perché non la realizzi adesso? Però ci ho pensato e ho detto sì va bene lanciamoci perché no. Quindi la casa editrice è nata un po' anche in funzione del libro di Riccardo che si intitola Vidi Chiari Uniti e poi naturalmente sono andati gli altri quindi adesso sono sei i titoli e quindi ci stiamo facendo un po' l'esperienza non è che siamo degli editori navigati eh però è chiaro che come tutte le cose eh nascono devono fare eh ognuno si deve fare eh la propria esperienza la propria ossa sperando di riuscire a navigare in questo mare tempestoso certo eh voglio dire non è proprio il momento più brillante no per partire con una nuova impresa eh ancorché un'impresa editoriale dove la lettura in Italia sappiamo che fa sempre ancora un po' di fatica ehm ad andare avanti il settore della libreria il settore della distribuzione che ha un sacco di problemi però nonostante tutto questo ci proviamo. Bene e volevo chiederti allora qual è il progetto e il programma rispetto non so alle collane ai settori eh in cui intervenire oggi diciamo è la questione dei diritti e della letteratura no come settore mi pare c'è qual è il programma intendi diventare generalista cioè a seconda come dire dell'interlocuzione con gli autori di aprire eventuali strade non lo so guarda io mi sono dato lo accogli al volo eh scusa scusa non lo sentito bene. Se ti propone un libro un filosofo lo accogli al volo? Ah allora guarda eh io mi sono dato un po' quello che è una linea editoriale no? È una linea editoriale che in ogni caso è piuttosto ampia eh si parte dalla valorizzazione dei diritti umani eh e poi eh dalla valorizzazione per finire alla valorizzazione del territorio. Qui sono due argomenti veramente amplissimi eh i libri che abbiamo pubblicato fino adesso ripeto sono sei titoli però in cantiere abbiamo anche delle prossime uscite quindi per primavera usciranno almeno altri quattro volumi no? Quindi questo catalogo si rafforzerà ancora di più e abbiamo spaziato su questi su questi due argomenti. C'è da dire che sulla valorizzazione del territorio no? Avevamo due progetti che poi è arrivato il covid e ce li ha praticamente stoppati no? Quindi sono due progetti che eh si chiamerebbero gente di Cleto ed esperienze in terra di Calabria e che esperienze in terra di Calabria già per esempio ti ti fa capire il senso delle cose no? Quindi eh valorizzare il territorio eh calabrese ma non solo perché se poi arriveranno delle opportunità anche in altre parti d'Italia perché no? cioè non vogliamo chiuderci in un contesto che deve essere soltanto un contesto un contesto regionale eh regionale. Poi invece per quanto riguarda mh la valorizzazione dei diritti umani appunto abbiamo affrontato il tema dei diritti della comunità LGBTQI più e abbiamo affrontato il tema del fine vita, abbiamo affrontato il tema ehm della libertà di cura e quindi dei pregiudizi legati eh alla cannabis e in particolare alla cannabis terapeutica. Ecco quindi stiamo approfondendo quelli che sono i veri argomenti. In cantiere ad esempio ci sono i diritti si è fermata l'immagine, abbiamo qualche problema di linea, speriamo che si risolga. messe ed è anzi uno dei titoli che sta andando meglio che prego digiti il film. Era saltata la linea, si era fermata l'immagine, se puoi riprendere su questi progetti. Ah sì, da dove? Insomma da quando hai detto che vi siete anche occupati eh della questione dell'ascista terapeutico, da lì si è tramata l'immagine. Eh ci siamo occupati appunto della cannabis terapeutica, quindi dei diritti dei malati, dei la libertà di cura e però tutto questo non ci è impedito di pubblicare nel momento in cui è arrivato anche un libro ehm divertente, no? Che si che si intitola, lo abbiamo pubblicato poche settimane fa, un mese fa e che si intitola prego digiti il pin, avventure e disavventure di un operatore di sportello, no? Un libro che è arricchito con tante eh divertenti vignette e che parla del lavoro d'ufficio in buona sostanza. Quindi l'avventura e le disavventure e queste avventure e queste disavventure che accadono ad un operatore di sportello di un ufficio postale. Ecco e quindi mh c'è un testo che merita e quindi non ci siamo privati del piacere di pubblicarlo. Allora per rispondere alla specifica alla tua domanda, se arriverà il testo di un filosofo lo pubblicherete, bene la risposta è lo valuteremo certamente, perché no? Senza ci lasciamo sempre porte e finestre aperte. In più mh stiamo introducendo degli elementi di novità eh perché abbiamo incominciato il lavoro di narrazione del catalogo e il mio desiderio sarebbe quello di accompagnare ogni libro stampato, quindi pubblicato nella forma più tradizionale, no? sulla carta e accompagnarlo però anche con l'audiolibro. In questo io ci credo molto perché l'audiolibro secondo me è il futuro e l'evoluzione anche della lettura e ci sono degli elementi di novità assolutamente importanti dentro eh perché l'esperienza di leggere un libro ascoltandolo eh è un qualche cosa che tu puoi fare anche i per esempio nei eh nei tempi morti dalla giornata, no? Eh possiamo fare alcuni esempi, tu eh anzi non lo dicono in tanti, no? Perché noi siamo molto propositivi naturalmente nei libri perché tu fai la casa editrice poi però se non li vendi i libri non stai in piedi quindi dobbiamo essere propositivi e venderti e tante persone magari ci dicono sì vabbè però sai ho delle perplessità a comprare il libro perché io non leggo molto, perché ho poco tempo e perché arrivo a casa e sono stanco, sono sono distrutto dopo una giornata di lavoro e quindi non ho la testa per mettermi lì, concentrarmi, fare anche la fatica di leggere, no? E effettivamente è anche un impegno perché tu devi trovare il momento giusto eh dove puoi stare puoi dedicare tempo a te stesso, no? Aprire un libro è anche un piccolo lavoro, no? Perché devi sforzare la vista o quindi oltre ad essere è sicura leggere è sicuramente un piacere però comporta naturalmente un un piccolo impegno, su questo non ci sono dubbi. Ecco magari l'audiolibro può risolvere alcuni di questi problemi e può essere addirittura se io torno a casa e sono stanco allora invece di leggere un libro lo ascolto e in quel momento lì non mi privo del piacere della lettura, allo stesso tempo magari trovo in quel momento anche un momento di rilassamento, no? Un momento per rilassarmi. Allo stessa maniera come se io fossi una persona particolarmente impegnata però con dei tempi morti, i tempi morti potrebbero essere il percorso che io faccio da casa in ufficio e non lo so posso ascoltare un libro, lo posso ascoltare in macchina, lo posso ascoltare mentre sto viaggiando su un mezzo pubblico, lo lo posso ascoltare un libro addirittura mentre faccio i mestieri di casa perché eh non lo so eh si è fermata l'immagine questa connessione la la metteremo a posto si è bloccata. Sì e sta ripartendo anche mi sa. Aspetta. Dimmi quando arriva il video. Ecco è arrivato il video. Ok. Si poteva leggere anche eh facendo i mestieri di casa. Mestieri di casa. Ecco riparto da qui. Quindi si può mh si può leggere anche facendo i mestieri di casa perché ci sono alcune attività che sono praticamente automatiche. Eh cioè se sto passando l'aspirapolvere non è che in quel momento rifletto eh di impugnare il tubo dell'aspirapolvere e di fare un determinato movimento. Lo faccio e basta. Quindi se ho una cuffiette e ascolto il libro e anzi forse in quel momento lì eh in cui il cervello è particolarmente annoiato nel fare magari un lavoro ripetitivo no? E che non è proprio appassionante proprio per eh per com'è fatta la nostra mente magari la nostra mente ringrazierà pure perché in quel momento sta ascoltando qualcosa di interessante. Sì e puoi dire le due proposte di prima rispetto alla Calabria che che per il covid si sono fermate? Sì volentieri. Allora ehm il primo progetto si chiama Gente di Cleto. Gente di Cleto è un libro che è legato naturalmente al borgo dove è sede la casa editrice e quindi questo borgo in provincia di Cosenza collinare e affacciato sul Martirreno ehm però non è soltanto un libro con una raccolta di notizie storiche non è soltanto un libro con una raccolta di con le di fotografie con le immagini più belle con gli scorci più belli eh di questo di questo borgo ma abbiamo introdotto anche qui degli elementi di novità e quali sono questi elementi? Innanzitutto un lavoro collettivo fatto proprio in ambito comunale da parte di una quindicina di persone e un un lavoro collettivo di eh ripensamento del borgo eh del borgo proiettato nel futuro quindi una raccolta di idee di iniziative che si possono fare dalle più banali alle più ambiziose da mettere nero su bianco quando tu ti proietti verso il futuro e fai dei progetti la prima cosa che fai qual è? Ti fermi un attimo ci pensi e la cosa più ovvia è quella magari di metterli nero su bianco questi progetti no? Strutturare questi progetti beh quello è il primo passo naturalmente per proiettarsi nel futuro ecco questo è un po' ehm un lavoro che non viene fatto partiamo di pause cittadina nel futuro attraverso le iniziative che si possono realizzare ripeto dalle più banali alle cose più ambiziose e questo lavoro collettivo eh troverà spazio in quelle nelle pagine di questo libro Gente di Cleto ehm al quale poi abbiamo introdotto eh un'ultima novità che è quella ehm sicuramente di far vedere gli scorci più belli del paese attraverso le fotografie però anche con le persone e quindi eh tutte le persone che vorranno essere immortalate ehm affacciate a questi scorci belli di questo di questo borgo ehm saranno fotografate e saranno pubblicati poi sarà interessante andare a ripubblicare questo libro fra dieci anni o fra vent'anni e quindi andare a vedere quelle come si sono diciamo ognuno no? Potrà riconoscersi in quelle fotografie potrà attraversare di nuovo il borgo e vederlo magari dopo un certo numero di anni qual è stata la sua evoluzione potrà emozionarsi e magari nel vedere le persone che nel frattempo inevitabilmente poi non ci saranno più no? Eh potrà fare il confronto anche con come una persona sia evoluta quindi un confronto con se stessi no? Ho fatto eh mi son fatto la foto con la mia famiglia a porta forgia dieci anni fa adesso sono in questo modo dieci anni fa invece la mia famiglia era in quest'altro modo e quindi c'è il ricordo di quel momento esperienze in terra di Calabria invece una raccolta di esperienze vere e proprie quindi ci rifacciamo al concetto del turismo esperienziale quindi del turismo lento del turismo che non è fatto soltanto di quando si parla magari di Calabria non è soltanto fatto di spiaggia mare e basta però eh un turismo invece che va alla scoperta eh di cose che sono addirittura nascoste e sconosciute alle stesse persone che abitano questi luoghi quindi devi avere proprio percorsi ed esperienze che ti fanno scoprire i tesori su un determinato territorio noi abbiamo preso a eh come riferimento il territorio che va dal fiume freddo Bruzio fino a alla mezza terme far scoprire questi tesori nascosti e far fare delle esperienze anche fenogastronomiche di storia di cultura di visite guidate e e tutta questa roba qua quindi quindici percorsi mirati per farti un esempio eh qui vicino a un quarto d'ora altra pausa mi scuso c'è il ponte romano più antico d'Italia che sta ancora in piedi e che ha duemila e cento anni c'è incredibile no? C'è un ponte che è stato edificato ehm prima della prima di Cristo e che sta ancora là in una Calabria ballerina mi riferisco ai terremoti che nel corso dei secoli ha resistito a terremoti devastanti poi eh ma io non so quanto può valere eh per una persona che visita un luogo poter poggiare le mani su una pietra che è stata edificata duemila e cento anni fa e ahimè purtroppo questo eh eh questo questo reperto bellissimo in questa fiumara e non è conosciuto neanche dalle persone che ci stanno qui c'è a stento c'è il comune che rende quell'aria fruibile e diciamo pulita dal più o meno dalle erbacce c'è una zona picnic più o meno più o meno ed è un peccato non scoprire queste cose no? Perché mh per una roba del genere io dico sempre a largo di Vibo Valencia si dovrebbero fermare le navi da crociera scendere con i barchini fare le viste guidate no? Quindi poi dopo queste viste guidate con con il pullman e a me ci sorride un po' su perché mi viene in mente il mio viaggio il mio viaggio di nozze no? Del duemiladiciassette ehm avevo fatto un viaggio di nozze con Riccardo in in Norvegia e abbiamo acquistato una di queste escursioni no? Quindi eravamo eh un migliaio di persone ehm c'erano decine di autobus eh tutti quelli che avevano acquistato questa questa escursione ci hanno messo su questi autobus e quindi ci hanno fatto fare un sale scendi in una strada un po' accidentata più o meno dopo un tre quarti d'ora e ci siamo fermati su un altopiano e su quest'altopiano per peraltro il tempo non era un granché no? Era un po' nebbioso c'era un po' di pioggia però su quest'altopiano non c'era praticamente nulla zero c'era soltanto una casetta di legno ma erano i servizi igienici ok? Eh eh naturalmente siccome in crociera all'età media delle persone è un po' avanzata davanti a questa casetta si è formata un nutrita fila e quindi si è rimaste lì nel vuoto e nel nulla per un tre quarti d'ora per una mezz'oretta circa poi dopo una mezz'oretta sono arrivate le guide quindi ogni guida ha chiamato un po' eh le persone della propria lingua quindi parlavano l'italiano inglese francese spagnolo eccetera eccetera e a gruppi sono andato a vedere questa tra virgolette meraviglia era un ponte ok un ponte di pietra c'è delle pietre grandi così messe anche un po' alla rinfusa uno sull'altro e poi c'era la guida che ci diceva si è fermata ancora un po' così dietro a casa mia io ce l'ho il ponte alla descrizione di questo ponte sì ecco ce l'ho il ponte però ce ne ha duemila di anni e poi c'era un macigno con un buco e poi ci raccontarono una favoletta no dice beh nei tempi passati nei tempi antichi e le le cose le ragazze che si dovevano sposare dovevano attraversare questo questo buco in questa roccia no perché se riuscivano ad attraversarlo significa che non erano incinte si potevano sposare se invece non riuscivano significa che erano state interessante no quindi non si potevano sposare vabbè tutti contenti poi vedevi tutti questi vecchietti che si ficcavano lì nel buco no a scherzare e tutto il resto ma questo per dire cioè in altri paesi dove non c'è la meraviglia che c'è in italia in ogni angolo viene valorizzata qualsiasi cosa cioè anche anche dove non c'è la meraviglia ci si attrezzano capisci cioè questa escursione pagata tra l'altro a carissimo prezzo ci hanno portato proprio nel nulla niente invece noi in italia dove la meraviglia la scoperta si può fare veramente girando la testa no veramente a pochi passi da casa e noi siamo nella quasi totale incapacità di valorizzare queste cose i che non deve essere necessariamente una valorizzazione per gli altri perché poi deve venire il turismo perché poi dopo devono venire i turisti perché ci devono portare i soldi perché deve proteggere l'economia noi non riusciamo a valorizzarli neanche per il piacere di noi stessi persone del luogo di godere del privilegio di avere questa portata di mano queste meraviglie ecco bello e ti posso fare tre suggestioni per l'edizione in calabria le mie cioè interessi miei vado allora una è per un giro di lettura molto singolare ho un interesse per la storia di guardia pienutese della comunità valdese valdese e devo anche dire io non mi rivolsi al comune però in un romanzone che ho scritto c'è tutta una parte in cui c'è dentro guardia pienutese c'è un c'è un vecchio di 93 guarda guardia piemontese l'origine di quelli guardia piemontese è veramente interessante e affascinante e peraltro io sono originario di fuscaldo e fuscal del comune limitrofo a guardia piemontese quindi pensa ce lo conosco abbastanza bene proprio per una questione territoriale ho vissuto lì praticamente quasi quasi tutta la mia vita io mi sono trasferito a cleto con riccardo noi ci siamo trasferiti ma ci siamo trasferiti e sei anni fa abbiamo vissuto quindi diciamo che per per 40 anni ho vissuto ho vissuto lì vicino e la storia di guardia piemontese è particolarmente affascinante perché nei tempi antichi c'è questo insediamento che è stato fatto da questi valdesi e che poi sono stati perseguitati dalla chiesa e poi a guardia piemontese a parte ci sono proprio resti e ricordi anche nei nomi ad esempio la porta del sangue la porta del sangue è praticamente l'ingresso del centro storico che è arroccato su una collina molto alta che domina insomma tutto quanto il territorio era anche un posto ideale dove edificare questo paese e però naturalmente all'epoca furono considerate degli eretici e quindi questo queste persone non abbiurarono alle loro alla loro religione credenze furono uccise e la porta del sangue è denominata sangue proprio in ricordo del ribolo di sangue che uscì fino fuori le mura del paese e nei giorni in cui ci furono le esecuzioni da parte da parte della parte della chiesa perché queste persone furono considerate eretiche poi naturalmente si possono raccontare tante altre cose io io ho visitato avuto la chance di visitare guardia piemontese bene sono contento un'altra un'altra suggestione è è gastronomica e so perché è il presidente della situazione di pasticceri d'italia in questo momento a reggio calabria avete un grande pasticcere angelo misolino e e io un libro su questo pasticcere questa pasticceria lo farei sarei tentata e poi c'è e c'è un'altra suggestione e che ci viene e che mi viene da da un'intervista e nella vostra terra hai il un filosofo del diritto che è francesco maria tedesco che avevo intervistato e quindi inter interviene molto e qualche anno fa ancora diciamo recente ha pubblicato un libro sulla questione del regionale interessantissimo e sono le mie come dire se penso alla calabria mi vengono in mente queste cose e e poi vabbè ma è tutta un'altra fonte e e ho intervistato anche l'amico pino rotta che è un sociologo di formazione e che da anni in dareso calabria interviene sempre sul sulla questione civile non so come chiamarla insomma molto vicina alla questione dei diritti ecco anche come dire perché mi sono autorizzato a chiederti direttamente com'è che intendete intendete proseguire sicuramente il patrimonio per quanto mi riguarda la parte diciamo culinaria il patrimonio della calabria può sempre avere come dire è una miniera sempre da esplorare forse anche solo sul prodotto è certo sulla che ne so io sulla produzione del bergamotto io lo compro subito il vostro libro se lo fai eh beh guarda c'è il bergamotto c'è il cedro eh che sono delle specificità c'è il peperoncino a diamante c'è l'accademia internazionale addirittura del peperoncino con un festival che ormai è diventato un festival di caratura di caratura internazionale beh la tradizione culinaria calabrese senz'altro voglio dire una tradizione valida senza nulla togliere a tutte le altre tradizioni italiane perché in italia abbiamo appunto questa ricchezza e forse anche anche questa una delle ragioni attraverso le quali l'Italia è definita il paese più bello del mondo no perché eh il paese più bello del mondo perché è ricco ricco di una varietà incredibile no? Eh non soltanto di prodotti enogastronomici oltre naturalmente ai beni culturali e artistici per non trascurare anche i beni ambientali ricordiamoci che poi l'Italia stessa no? È in una posizione proprio geografica particolare perché è proiettata verso il centro del del Mediterraneo e tu devi pensare che la città di Reggio Calabria è esattamente rispetto ai quattro punti cardinali è esattamente al centro del mar Mediterraneo quindi tenendo conto est-ovest nord-sud la città di Reggio Calabria quindi anche la Calabria è al centro questo naturalmente essere al centro eh voglio dire geograficamente c'è di per sé può essere soltanto poco più di una curiosità però eh prestiamo attenzione non è soltanto una curiosità geografica e questo ha un'influenza particolare sul clima ed è questa la ragione attraverso la quale ecco tu hai citato prima il eh il Bergamotto eh in Calabria c'è questo microclima eh che in alcune zone si crea e dove è particolarmente eh favorita la sua la sua crescita no? E poi il clima in particolare il clima italiano di per sé è un buon clima ma più andiamo a sud più questo clima è particolarmente gradevole. In Calabria un po' queste combinazioni sono addirittura accentuate e di conseguenza anche a livello climatico questo è una è un territorio eh baciato dalla fortuna però non è una casualità la casualità è dovuta da questo particolare da questa particolare posizione geografica che si trova al centro proprio del Mediterraneo del Mediterraneo. Bene Marco io ti ringrazio faccio a te e ai collaboratori eh eh un augurio di una di una sempre più grande riuscita è una bellissima è una bellissima avventura che la invidio. Ti ringrazio ti ringrazio moltissimo e per tutti quelli che ci ascolteranno magari posso ricordare il sito internet dove poter venire a curiosare la la casa editrice, i titoli, ciò che abbiamo pubblicato, quello che pensiamo e tutto il resto. Ci trovate naturalmente molto facilmente su Facebook con officine editoriali da Cleto e quindi basta fare la ricerca con chioccio l'officine editoriali da Cleto oppure www.officineeditorialidacleto.it mi posso fermare un attimo solo su questo sul nome che ho scelto per la casa editrice e ho voluto inserire proprio il termine eh officine proprio per dare questo senso proprio delle officine perché è nelle officine quindi nei laboratori artigianali che le cose si creano che le cose si evolvono che le cose ogni tanto si aggiustano si riparano con l'artigianalità e l'amore che naturalmente questo comporta. Bene, grazie ancora, ti saluto, ciao. Grazie a te, grazie Giancarlo, ciao.